Vorrei presentare il dottor Luigi Garlaschelli, che è chimico all'Università di Pavia, ricercatore e che per conto del CICAP esegue anche delle ricerche, per caso dirlo, sul campo. Di cosa si tratta? CICAP vuol dire Comitale Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale. Controllo significa verifica, quindi la sperimentazione o l'indagine sul campo o la sperimentazione in laboratorio è sicuramente una parte essenziale nell'attività del Comitato. Di questo Comitato fanno parte scienziati, fisici, chimici, psicologi, persone che hanno una competenza specifica in determinati campi e quindi, anche se il Comitato ovviamente non ha un'ufficialità accademica, però usa le competenze di queste persone, di questi scienziati per indagare vari casi o per verificare alcuni fenomeni o l'esistenza o più spesso l'assenza dei medesimi.